Davide Frattesi alla Roma affare in chiusura si stima l'ufficialità entro una settimana in questo video parlerò in modo ipotetico perché non vorrei che la trattativa saltasse poi me la prendo in quel posto però sto godendo come un pazzo e i miei sentimenti appunto di gioia li mostrerò nel video se dovesse arrivare l'ufficialità però veramente sarei soddisfatto in modo incredibile di un suo possibile approdo nella prima squadra della capitale siamo qui per parlarne ma prima di iniziare iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti lasciate tantissimi fior di mi piace e fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento romanisti e non di questo ipotetico acquisto della Roma di Murigno allora veramente sarebbe tanta roba allora nel corso della giornata si è parlato tantissimo di un possibile approdo di Gundogan nella capitale di una possibilità che la Roma potesse puntare su di lui sul calciatore ormai del Manchester City da anni però è un sogno proibitivo ragazzi perché comunque è vero che la Roma potrebbe sfruttare del decreto crescita che quindi andrebbe ad abbassare quello che pagheresti per il suo stipendio in questo momento guadagna 7 milioni al Manchester City ma non è che ne vai a dare di meno a lui proprio per un fattore di decreto crescita ne andresti a spendere appunto di meno quindi non è proprio impossibile però la vedo dura la vedo dura come trattativa perché comunque è del Manchester City è un giocatore di raffinatezza ecco no 31 anni molto esperto che comunque gli può gestire il centrocampo veramente alla perfezione però appunto mi sembra molto difficile perché la concorrenza è tanta e credo che Gundogan si andrà a prendere un altro top club a livello europeo anche se c'è il gradimento appunto di José Mourinho e su nei confronti appunto del tecnico portoghese poi ovviamente la Roma farà un colpo top quindi magari tutte queste tutto questi insieme di cose potrebbero portare a Gundogan nella capitale però proprio non ce lo vedo secondo me la Roma farà un altro colpo top spero comunque che non sia frattesi perché è vero andresti cioè con lui andresti a sistemare totalmente il centrocampo perché è già acquistato Matic è vero partirà molto probabilmente e togliere anche probabilmente vere tu Oliveira se ne è tornato al porto quindi in questo momento avresti frattesi Matic, Cristante, Bove e compagna bella e secondo me staresti veramente a posto posso dire la verità perché secondo me i titolari sarebbero frattesi e Matic e ve l'ho detto Matic si alternerebbe costantemente con Cristante che andrebbe a fare un tempo a partita e in più avresti in caso di bisogno uno come Bove che comunque ha dimostrato di essere un giovane molto interessante degno di giocare per questa maglia allora parliamo un attimo di questo acquisto e comunque il giocatore del Sassuolo di nazionalità italiana ha già fatto l'esordio con appunto la nazionale maggiore dove mi è piaciuto lì in mezzo al campo e va sottolineato il fatto che è romano e secondo me è sempre una roba importante perché è pure romanista cioè lo ha confessato, ha giocato sia nelle giovaniglie della Lazio inizialmente che poi trasferito alla Roma dove c'è stato per circa 4 anni dove ovviamente sicuramente ha avuto maggior ispirazione perché è proprio romanista di nascita lo ha detto anche in una conferenza stampa dove preferiresti andare a vedere cioè preferiresti andare a vedere la Lazio e la Roma, la Roma così come Scamacca quindi comunque questo è un fattore molto importante in più comunque titolare del Sassuolo e quest'anno ha fatto un'ottima stagione cioè a me è sempre piaciuto in questa stagione l'ho osservato e ho sempre espresso beato a chi se lo pia 36 partite in Serie A e ha trovato la bellezza di 4 gol e 4 assist numeri importanti essendo che è un calciatore che andrebbe a giocare nella Roma da mediano e il Sassuolo ha giocato in un 4-3-3 nel 3 di centrocampo la Roma andrebbe a giocare nei 2 di centrocampo quindi davanti alla difesa e appunto secondo me andrebbe a cambiare una cosa perché in questo momento al Sassuolo si può permettere molti più inserimenti offensivi quindi potrebbero portarli a trovare appunto il gol alla Roma dovrebbe un attimo star più attento alla fase difensiva perché non ti puoi permettere di lasciare quel buco in mezzo al campo essendo che poi alla fine non hai un centrocampo molto robusto perché sono due giocatori poi rimarrebbe Matic che ovviamente anche lui ha una bella botta là fuori quindi si alternerebbero nell'andare avanti ma poi ovviamente deve riprendere il campo tornare dietro a tutta velocità comunque è un calciatore un centrocampista dinamico abile tecnicamente e fisicamente comunque sa immettere il suo fisico bravo in fase di interdizione ed impostazione della manovra e appunto ha come qualità gli inserimenti offensivi che poi però la Roma dovrebbero un attimo essere alternati voglio vedere quanto effettivamente è alto frattesi questa Roma non lo so un metro e 84 manco sembra a livello televisivo quindi comunque è un uomo di peso veramente secondo me potrebbe essere un acquisto alla Murigno che comunque lo gradisce e soprattutto sapete perché sarebbe molto vantaggioso per la Roma tutte le altre squadre andrò a spenderci 30 milioni su perché il Sassuolo richiede quello la Roma invece potrebbe approfittare della clausola della rivendita immessa ormai anni fa quella che quindi a qualsiasi trasferimento di frattesi in qualsiasi squadra la Roma andrebbe a attrarne il 30% della futura rivendita quindi cosa potrebbe sfruttare la Roma? non è che ti entrerebbero soldi diciamo che si parla di circa 15 milioni di euro per il trasferimento della Roma 15 milioni di euro per un calciatore del genere che qualsiasi altra società andrebbe a spendere il doppio cioè andrebbe a spendere il doppio per frattesi 15 milioni di euro quindi non andresti a far pagare al Sassuolo la rivendita quindi comunque sarebbe anche vantaggioso per la squadra nero-verde più l'inserimento di uno tra Volpato Felix e Bove io spero di no Bove spero che sia effettivamente piuttosto uno tra Volpato e Felix Volpato comunque interessante centrocampista però io credo che Bove sia di livello superiore e Felix che ha dimostrato di essere un calciatore che ha qualità però deve migliorare qua di testa e ovviamente puntellare le sue caratteristiche comunque non è che sarebbe un dramma un suo possibile addio quindi un suo possibile trasferimento al Sassuolo sarebbe veramente una formula importante cioè andresti a spendere ben poco per un calciatore che poi sul campo ti va a fare prestazioni d'eccellenza dovrebbe conoscere anche al meglio Pellegrini e comunque un nazionale quindi alcun talento italiano cioè sarebbero veramente tanti gli aspetti positivi quindi fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento e noi ci vediamo ad un prossimo video mi raccomando lasciate tantissimi piaci ciao